Lunghe code, attese snervanti e tratte ancora da capire. Il rientro a scuola ha provocato non pochi disagi ai genitori di studenti pendolari, giovanissimi che si devono muovere in autobus per arrivare nelle scuole dove seguire le lezioni. Agli inizi di settembre, infatti, Autoline e Toscane, che da novembre scorso gestisce tutto il trasporto pubblico su gomma della regione Toscana e Busitalia-Umbria-Sita Nord hanno effettuato un accordo sulla gestione delle tratte a cavallo delle due regioni e sui ticket, facendo ricadere tutto in seno proprio all'Umbria e nello specifico nell'Alto Tevere, con grave difficoltà, soprattutto per due linee, quella da Città di Castello a Sansepolcro, la ex 388 che passa per le scuole, poi Cerbara, Selci, Lama, San Giustino fino alla cittadina toscana e quella che va dalla comune Tifernate fino a Lippiano, la ex 389, con le fermate anche a piste nelle ville. Così i genitori hanno dovuto prima capire le tratte e poi cercare di trovare l'abbonamento per i propri figli. L'unico luogo dove si può effettuarli però è la biglietteria della stazione del treno a Città di Castello e qui in pochi giorni si sono affiondati migliaia e migliaia di persone pronte a pagare l'abbonamento a prezzi non troppo concorrenziali nonostante il bonus ministeriale. Padre e madri erano così tanti che ben presto si sono create lunghe file, addirittura ben primo che il botteghino aprisse verso le 7 della mattina, tanto che alcuni giorni fa una ragazza è anche svenuta, stramata dalla stanchezza fra le differenze della gente e pensare che siamo ancora solamente all'inizio dell'anno scolastico.